Anche quest'anno la struttura complessa di endocrinologia, diabetologia e malattie metaboliche del Policlinico Ospedali Riuniti di Foggia, diretta dalla professoressa Olga Lamacchia, aderisce alla campagna per la Giornata Mondiale del Diabete sul tema Famiglia e Diabete, insieme con la Libera Associazione Diabetici Capitanata, Lions Club Umberto Giordano di Foggia e la Croce Rossa Sezione di Foggia. Nella giornata dell'11 novembre prossimo, dalle 15 alle 19 presso il centro Mongolfiera e il 18 novembre dalle 15 alle 19 presso il centro Grandapulia, i medici e le dietiste della struttura complessa di endocrinologia, diabetologia e malattie metaboliche del Policlinico Ospedali Riuniti di Foggia, insieme ai volontari delle associazioni, eseguiranno test di screening con la compilazione di un breve questionario e valutazione del rischio individuale di sviluppare il diabete a 10 anni, controllo del peso, della glicemia e della circonferenza addome e forniranno consigli utili per prevenire con sani stili di vita lo sviluppo della malattia e delle sue complicanze.